un saluto amici benvenuti su max recensioni quest'oggi presento un brand nuovo un video promozionale del brand kumi ovvero un brand che si è appena affacciato nel panorama con i suoi modelli tra cui il gt5 un compagno ideale per lo sport con caratteristiche davvero interessanti perché può supportare tutto quello che sono le eventuali chiamate messaggi quindi a il supporto lo speaker bluetooth con il anche microfono e molto molto interessante la possibilità di monitorare tutti quelli che sono i livelli di ossigeno battito cardiaco la sua compatibilità con il bluetooth 5.0 consente di utilizzarlo con tutti i dispositivi con un basso consumo nonché la possibilità di andare a sostituire i riquadranti e con la bellissima ghiera che si illumina con led anche a tempo di musica è molto molto interessante il case metallo e tutte quelle peculiarità a livello di gestione della musica notifiche messaggi chiamate con la possibilità di riagganciare e con la sua protezione ip68 per una resistenza a liquidi e all'immersione senza precedenti quindi un dispositivo davvero interessante il gt5 che si profila di essere di uno dei dispositivi migliori della casa andiamo avanti con il modello gw 16 t che è un modello un pochino più entry level adatto al pubblico più giovanile ma che non disdegna il design quindi uno stile molto molto interessante con il suo quadrante rotondo sempre la resistenza ai liquidi e sempre le funzionalità per quanto riguarda il supporto al battito cardiaco alla rilevazione dell'ossigeno e anche dell'ip68 il k2 plus invece è il dispositivo di punta con il formato rettangolare con una doppia stondatura ai lati quindi molto molto interessante con un design davvero ricercato e molto interessante anche il suo approccio per quanto riguarda le funzionalità non manca praticamente nulla questo dispositivo perché c'è il quadrante quadrato come dicevo con queste caratteristiche di design che lo rendono forse uno dei più belli anche a livello di impatto visivo quadranti ovviamente sostituibili per quanto riguarda l'applicazione con le sue watch face abbinamento possibile con android e con ios abbiamo altre funzionalità tra cui l'onni presente switch della musica il controllo della temperatura anche qui e del corpo piuttosto che i battiti cardiaci e tutte le altre funzioni degne di una smartwatch che si rispetti quindi questo dispositivo è sicuramente uno dei dispositivi di design migliori sempre ip68 da parte della cumi il k2 plus l'altro dispositivo di cumi molto molto interessante è l'n8 con display amoled con un'innovazione molto molto interessante per quanto riguarda la presenza di due speaker true wireless con in ear che sono integrati nel braccialetto quindi molto bello design è davvero interessante anche la disponibilità dei colori il display è un display amoled quindi si vede davvero molto bene al sole e le cuffiette in altro wireless sono con controllo touch battiti cardiaci ossigenazioni controllo della pressione arteriosa tutto è gestito al meglio in questo dispositivo n8 l'ultimo dispositivo che vi voglio far vedere è l'u3 un studio un pochino più una band leggermente diversa quindi con un profilo un pochino più sottile e più adatto al pubblico molto giovane con la disponibilità sempre di tre colori a disposizione battiti cardiaci un chip nordic ossigenazione battiti cardiaci ip68 smart assistant tutto quello che si può desiderare dal dispositivo con tantissime funzioni tantissimi sport per andare comunque ad assistervi in tutte le vostre attività molto molto interessante anche la durata di circa sette giorni quindi questa è la carrellata del cumi degli dispositivi cumi mi raccomando iscrivetevi al mio canale e andate ad iscrivervi al concorso giveaway della cumi che vi permetterà di vincere dei dispositivi e di partecipare alle estazioni finale quindi con la possibilità di andare anche ad avere gli sconti mi raccomando in questi tre giorni fino al 27 ci sono sconti sul sito vi metterò i link utilizzateli perché riuscirete a caperarli a un prezzo molto molto interessante per il momento è tutto rimanete sintonizzati un ciao a tutti da max recensioni a presto ciao a tutti